Romano 10, 17 Romano 10, 17 Romano 10, 17 Romano 10, 17 Romano 10, 18 Fordi, Signore, quendi attra cielo e terra. L'agra nos reza. Oh, Signore, Dio, Dio qua crea cielo e terra, avimenta nostra alza, nostra vista, nella sera, non for di onda, nostra giudanza, tabini. For di onda è soluzione per nos problemi nel luogno. Nos giudanza, tabini, fordivo, Signore. Danchi, pata, nos giudador, denge nomber di Jesus. Amen. Assinata, cu fe tabin, for di tendimento, e tendimento, pa medio di e Palabra di Cristo. Romano 910, 17 Boa puntra bomes pa hopi anja, com bomes teresa, di manera, cu Dio sta contestando la orazione, bo che sa compagasse la orazione con un fe fuerte, e co bo ta move e man di è todopoderoso? Bo a perdere il lavoro, quizaz, e bo ta pidiendo a Dio pa abri e porta di bovida pa un altro lavoro? Bo ti mesterdi un contestare la orazione con un situacione difficile? Reclama, cu fe. E buchi aqui, lo mostrabo con paz e orazione con un fe fuerte, e co te pone con Dio no por queda sin reaccionar. Logo mira, Dio move un tocubo, den turbo problema, e problema di mas grande. E logo mira con Dio lo trese soluzione, inespera. Busca bo buchi, Reclama, cu fe. Scribi, pa nai ralim felicia. Reclama, cu fe.